Il fatto non sussiste di Margherita. Mamma, dimmi amore, perché tu lavori? Le ruote del monopattino mi segano una fibula e Paola atterra con i piedini sul pavimento della cucina, alle mie spalle. Mi volto per guardarla, mentre dagli occhi mi cascano lacrime grosse come gocce e piombano sul grembiule con un secco toc. Ma piangi per la mia domanda o per le cipolle? Mi asciugo gli occhi e abbasso gli occhiali. Per le cipolle, amore mio, perché lavoro, perché mi piace quello che faccio, perché ho studiato tanto e perché i soldini non bastano mai, quindi con papà ci diamo una mano. Appunto, ma perché hai studiato tanto se sapevi già fare il polpettone? Beh, semplice, perché io non volevo solo cucinare il polpettone, io volevo diventare un'avvocata e poi il polpettone non sa fare anche papà, giuro, però ha studiato pure lui. Il papà di Laura dice che avvocata lo dicono solo le donne che si sono montate la testa e che la sua mamma non lavora perché sa fare la pasta al forno più buona al mondo, quindi non c'è bisogno. Ah, e poi dice che non è una famiglia quella in cui la mamma è sempre fuori casa tutto, tuttissimo il giorno, anche di notte a volte, e i bambini, cioè io, sono sempre con la babysitter. Urca, dice così? Hai capito? Uh sì, ma non è finita, mi sussurra avvicinandosi al mio orecchio con la manina a cono. Ha detto anche che papà è un santo perché l'altro giorno è passato davanti a casa nostra e stava lavando i vetri della sala mentre tu eri a correre e che quelle cose dovresti farle tu, altro che papà. Pensa se sapesse che sa fare anche il polpettone, mamma, chissà cosa direbbe.